che bel tavolo qua, bene, allora, l'hotel California, ragazzi è un uomo, il numero 130, l'abbiamo? 130, chi è quest'uomo? è un uomo di rata bianca, 130 130, eccolo qua, ragazzi stiamo andando alla grande, allora le nostre singole hanno dieci decimi di vista, ciao, come li chiami? Da Mirandola, perfetto, cosa fai nella vita? Bene, crea le app, fantastico, un creator, come voi la donna ideale, la deve conoscere, così deciderà, bravo, bravo Andrea, vai, ecco qua, benissimo Bene, vado a vedere, ragazzi stiamo andando alla grandissima, allora io proporrei una cosa, vediamo se vediamo se gli uomini sono così romantici da fare ballare queste belle donne Uomini, preparatevi a portare in pista le donne Sì, ragazzi, uomini, preparatevi che vogliamo far ballare le donne Grazie, è per me? No, allora Ci siamo ragazzi, vediamo un po' Sì